Ai nastri di partenza alla seconda edizione del Festival Nazionale Bande da Giro a Molfetta. Luca Ciciriello. Una kermess musicale dedicata al mondo e alla tradizione dei complessi bandistici pugliesi e non. È la seconda edizione del Festival Nazionale Bande da Giro, organizzato dall'omonima associazione con il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Molfetta, e Comitato Cittadino Feste Patronali. Dal 6 all'11 settembre le bande di Ruvo di Puglia, Molfetta, Gioia del Colle, Francavilla, Fontana, Conversano e la fanfara Decimo Reggimento Carabinieri di Napoli si alterneranno in un programma che ha come obiettivo focalizzare l'attenzione su questo fenomeno culturale. Per Angelo Schirinzi, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Bande da Giro, questi movimenti hanno un valore storico importante per il territorio e che non si è perso negli anni. Prima che nascessero i social, internet, vedevamo le nostre bande girare paese per paese a portare questo messaggio culturale e musicale. Poi a un certo punto si è persa questa identità perché le bande sono state sovrastate dai social, appunto da Youtube, da Facebook e quant'altro, ma credo che continui a rappresentare quel valore culturale identitario che ci identifica in maniera incredibile, in Puglia soprattutto. A questo aggiungerei una grande opportunità lavorativa per i tanti musicisti che si diplomano in conservatorio, poi vengono in banda, fanno una grande esperienza e sono gli stessi musicisti, gli stessi strumentisti che poi vanno nelle grandi orchestre e lì portano avanti questo loro lavoro.